eccoci qua e benvenuti alla presentazione un po più estesa del nostro work group mpl special aperto da pochissimo quindi ti spiego ora come accomodarti in prima fila esclusiva e goderti tutto questo 2024 insieme a tutte le attività che andrò a fare con la mia srl nell'ambiente degli mpl e soprattutto con il sottostante immobiliare che è quello che ci interessa di più allora andiamo a vedere un attimo ragazzi rapidamente quello che vi aspetta se entrerete dentro il work group special che ricordo per il 99,9 per cento delle persone sarà a costo zero basterà soltanto inviare una semplice dichiarazione di riservatezza allora intanto cosa cosa vedremo vedremo tutte l'attività di gentile francesco della genova mpl dei prossimi uffici che andremo a pre aprire quest'anno partendo da quella che è stata appena accettata come proposta che quella di roma ok quindi andremo a vedere tutte le strategie che hanno permesso di arrivare intanto a questa fantastica operazione e andremo a vedere proprio passo passo le exit strategy per monetizzare questo credito perché ricordatevi che l'asta è il 29 febbraio qui ho scritto 20 ma il 29 febbraio andremo a vedere tutti i passaggi che un creditore deve fare per arrivare poi all'asta immobiliare perché ricordatevi che con gli mpl si guadagna al contrario cioè se l'asta è piena di persone guadagni se all'asta non c'è nessuno ovviamente devi passare alla seconda strategia di uscita che è quella di intestarsi l'immobile poi vendono nel mercato libero quindi andremo a vedere senza censure con tutta la documentazione come si arriva a trattare queste operazioni perché ti assicuro che non le trovi da solo ci sono delle strategie da adottare e poi andremo a vedere ovviamente tutte le nuove srl che andremo ad aprire quest'anno con un grande obiettivo che poi ti spiegherò tra poco andremo a vedere intanto come costruisco i servizi per le mie srl che sono servizi che poi vengono forniti dalla mia srl che andrò a aprire tra 40 giorni che immobiliaristas srl per investitori del mercato libero ovviamente perché il mercato libero è importante e degli mpl quindi andremo a vedere come sviluppo questa srl e quindi come si passa da semplice investitore immobiliare a imprenditore titolare di srl con uno scopo ben preciso ovviamente andremo a vedere intanto quali saranno le srl che opereranno esclusivamente poi nel settore degli mpl e quindi vedremo come aprire queste società poi andremo a vedere come investitori esterni possono essere appunto selezionati per diventare poi dei protagonisti delle srl che appunto ruotano intorno a gentile francesco e ti spiego tutto a modi lezione quindi non saranno discussioni lunghe noiose con articoli di legge ma te te le metto in forma teorica in maniera tale che tu possa assimilare veramente i concetti perché poi sono sicuro che di quello che faccio io ti interessa relativamente ti interessa come imparare a creare opportunità nel settore degli mpl nel mercato libero seguendo appunto il tuo formatore francesco gentile che fino a un anno e dieci giorni fa ovviamente non aveva creato nulla di quello che tu stai per vedere e poi parliamo veramente di quello che è forse l'argomento più importante di questo gruppo work group special 2024 che come guadagnare fortissimi extra quindi ti mostrerò i miei guadagni ovviamente quindi non c'è teoria è tutta pratica sul campo con le attività di mpl quindi oltre a guadagnare con prendendo un credito a basso prezzo e monetizzandolo al meglio ci sono dei guadagni extra elevatissimi che ti permettono di creare ancora più fatturato e questi si possono ottenere in tantissimi modi ma nei principali modi sono il fronting che in poche parole potrò lo spiegherò bene durante le lezioni è un taxi che porta le persone verso le operazioni di mpl quindi porta persone fisiche porta porta soci delle mie società porta i segnalatori per le mie società che sono appunto inseriti dentro questo club professional che senza la mia società di fronte non potrebbero guadagnare un centesimo e poi andremo a concludere l'anno con il club deal ti farò vedere come aprirò il primo club deal che è una società di scopo con persone che ruotano soltanto dentro questo ecosistema e queste persone qui tu ne potrai fare parte avranno appunto il diritto e il dovere di copiare entrando dentro questo club deal gentile francesco e poi aprirne uno loro per poter creare poi dei poli di ulteriore sviluppo ma ne parleremo poi nella seconda metà dell'anno allora ti do dei consigli altrimenti ti assicuro che non vedrai niente di quello che ti devo rilasciare durante 2024 allora il work group special non è teoria cioè io lo trasformo in argomenti che possono sembrare teorici ma prendendo spunto soltanto dalle attività che io svolgo durante il mese quindi vedrai imparerai con esibizione documenti reali cioè non documenti facsimile documenti firmati documenti che io utilizzo per comprare gli mpl per contattare gli avvocati quindi sono tutti con dati sensibili quindi senza una dichiarazione di riservatezza andrei a finire in carcere poi ti consiglio poi ovviamente dopo aver inviato la dichiarazione di riservatezza di seguire bene poi anche le video info per poter candidarsi a diventare socio della società costituita poi un anno fa che ormai è esplosa anche grazie alla licenza 115 tulps e grazie a tutti i step che ho dovuto svolgere per farla partire ci sarà la possibilità di candidarsi per diventare socio anche lì ti dovrò dare delle informazioni private condividendo delle cose private è ovvio che senza una dichiarazione di riservatezza cioè noi possiamo parlare con il mondo e poi vengono condivisi questi documenti poi avrai quindi modo anche di avere delle informazioni private per poterti candidare alla prossima e nuova srl poi a ti darò dei video info per candidarti anche a investire con gli slot che sono praticamente l'anticipo del club deal poi avrai delle informazioni per candidarti al club professional e poi anche ovviamente alla fine per candidarti al club deal ovviamente sono quasi tutti collegati cioè non ci si può candidare al club deal se non si è dentro questi sistemi ok comunque per non saper leggere né scrivere scrivi riservatezza io ti mando una dichiarazione dove tu dichiari che tutto quello che vedrai rimane nel tuo pc e quindi non può essere condiviso distribuito eccetera se sai già di mantenere l'impegno allora puoi scrivere riservatezza io ti mando il testo tu ci metti i tuoi dati nome cognome dove abiti me lo incolli via mail e siamo a posto così ti darò accesso poi a un link diverso dove potrai entrare e per un anno assistere praticamente come se fossi dentro un grande fratello sarai dentro la mia società la mia struttura addirittura potrai vedere anche che io partecipo all'asta di cui sono creditore potrai vedere come gestisco come movimento i rilanci durante l'asta poi un altro consiglio come vedi è gratuito cioè non ti chiedo un centesimo basta che mandi la dichiarazione di serbatezza e ti do tutto a gratis anche questo è gratis se non sei già iscritto nel mio canale youtube di francesco gentile c'è il format academy executive sono 12 mesi abbiamo iniziato a novembre scorso mi sembra novembre dicembre 12 mesi gratuiti di strategie per imparare a diventare un maestro del mercato libero perché se tu vuoi trattare gli mpl e non conosci il mercato libero cioè il sottostante immobiliare che è dietro un credito ipotecario praticamente andresti a comprare i crediti sparando cifre a caso e poi soprattutto se ti devi intestare l'immobile dopo che sei diventato proprietario del credito devi conoscere anche le strategie per intestarti l'immobile ristrutturarlo rivenderlo eccetera 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 quindi se non fai parte dell'academy executive che ripeto è a costo zero per 12 mesi quindi durerà un anno scrivi academy e ti do il link poi altro consiglio ma penso che ci sarai già stato work group mpl quello precedente quello che era teorico ovviamente quello che ti faceva vedere quali erano i miei obiettivi e adesso entrando nello special gli obiettivi sono già stati raggiunti quindi andremo a fare lezioni su casi reali qui erano su tutti su casi teorici però ci sono le basi qui dentro quindi se non hai studiato i sei mesi di lezioni gratuite quindi stare dentro il gruppo non significa aver studiato le lezioni perché le lezioni hanno un link privato scrivi work group ti do le lezioni archivio degli ultimi sei mesi tra le studi sono gratuite però sicuramente avrai un'esperienza migliore nel gruppo special in quanto dopo è scontato che tutte queste basi tu le abbia ok altrimenti penso che non ci capisci niente va bene bene ragazzi ecco inizieremo col botto una volta inviato la dichiarazione di riservatezza io ti manderò un link ci saranno poi una miride di lezioni tra cui 20 lezioni dedicate esclusivamente all'operazione di roma va bene questa qui è la palazzina all'operazione di roma che è in corso perché l'abbiamo appena comprato abbiamo il 29 febbraio l'asta ci stiamo organizzando per l'asta vedrai un sacco di cose che solo se le fai riusciresti a impararle io te le faccio vedere già pronte belle che pronte e vedrai tutto quanto sull'operazione di roma soprattutto le strategie che ci hanno permesso di arrivare a un'operazione di questo tipo ok non soltanto quello che guadagneremo quindi se hai scritto riservatezza ti mando il link mary mi rimandi la dichiarazione e io poi ti rimando il link dove ovviamente potrai attivare l'invio automatico delle lezioni che saranno poi ovviamente inviate settimanalmente ogni dieci giorni insomma in base ai miei impegni e niente tieniti duro perché non avrai solo le lezioni dedicate all'operazione di roma ma anche su quelle che andremo a fare successivamente quindi le offerte rifiutate le offerte accettate come riesco a coinvolgere investitori esterni soci interni e soprattutto avrai tutte le informazioni private di come si opera con gli slot di come ci si può candidare alle mie attività imprenditoriali come ci si può candidare per un club professional come ci si può candidare poi per il club di insomma abbiamo un anno di tempo insomma non riesco a dirti tutto in un video di pochi minuti bene la scelta aspetta te non ti chiedo un centesimo più di quello mi permetterà così di non essere troppo preciso con l'invio delle delle lezioni perché come vedi faccio tantissime cose ogni giornata e preferisco insomma non chiederti niente così se ti arrivasse qualche lezione con qualche ritardo tu ovviamente capirai e quindi aspetterai appena ti preparerò una lezione ad hoc mano mano che faccio le cose bene ragazzuoli ci vediamo nel club privato ovviamente il club special world group e anche su facebook su facebook ovviamente ci entri soltanto per ascoltare gli approfondimenti delle lezioni private erogate quindi stando soltanto nel club di facebook non non vedi niente se non l'approfondimento delle lezioni perché su facebook ovviamente non condivido cose private documenti eccetera eccetera bene ragazzi ci vediamo durante le lezioni vi auguro un buon business ciao da franco ciao 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 Grazie.